La nuova razza. È indubbio che se l'umanità non scomparirà per una catastrofe naturale, cesserà di esistere quando gli uomini si faranno la guerra per fame. Come? Purtroppo quella ricchezza che avrebbe dovuto produrre più spiritualità viene sconfitta inesorabilmente dai bisogni materiali. È incredibile vedere l'uomo che si sta autodistruggendo. Nessuna coscienza di quello che sta accadendo. E nessuno fa nulla per fermare tutto questo. La stragrande maggioranza degli esseri umani vuole questo tipo di mondo. Il cambiamento dell'umanità ha bisogno di molto tempo, ma qui sulla Terra non può accadere, perché l'umanità è egoista. Su altri pianeti l'egoismo è stato sostituito con l'altruismo. Forse accadrà anche ai sopravvissuti di iniziare una nuova razza, dove sarà l'altruismo il valore. Grazie. 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 Grazie.